Partito da Prato, il Corecom Tour, la prima campagna di ascolto e informazione del Comitato Toscano per le comunicazioni. Il presidente Meaci ha incontrato amministratori locali e associazioni per illustrare le funzioni e le attività del Corecom e gli strumenti a disposizione dei cittadini. Premio Innovazione Toscana 2023, spazio a welfare e parità di genere e le domande di partecipazione al bando possono essere inviate fino al 10 novembre 2023, prevista la nuova sezione che si aggiunge alle tradizionali e al premio speciale giovani. Teatro, la stagione 2023-2024 all'astra assigna all'insegna di prosa, danza e musica, presentata la prima parte della nuova stagione del Teatro delle Arti all'insegna dell'impegno civile. Far conoscere funzioni e attività del Corecom agli enti locali e ai cittadini, rafforzare le attività di formazione all'uso consapevole del web e dei social tra le nuove generazioni grazie all'iniziativa del patentino digitale, mappare la realtà dell'informazione e della comunicazione in Toscana attraverso una ricerca che sarà affidata ad IRPET, promuovere gli stati generali dell'informazione e della comunicazione. Sono questi i temi trattati e gli spunti offerti alla discussione dei presenti nella sala consigliare della provincia di Prato da Marco Meacci, presidente del Corecom della Toscana, organo di consulenza e di gestione della regione in materia di comunicazioni, nonché organo funzionale dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni in occasione della prima tappa di Corecom Tour. L'iniziativa, promossa in collaborazione con la sezione regionale dell'Unione delle Provincie Italiane, porta per la prima volta il Corecom ad incontrare istituzioni, media locali, scuole, associazioni, imprese e cittadini per far conoscere il Comitato regionale per le comunicazioni, le sue funzioni e le attività che promuove. Sentiamo le parole di Marco Meacci, presidente del Corecom della Toscana. Parte questo primo Corecom Tour che facciamo un po' in giro in tutta la Toscana, partiamo oggi da Prato ma poi continueremo a Pistoia, Lucca e in tutte le città capoluogo della Toscana. Ci sembrava importante e necessario fare questa campagna di informazione ma anche di ascolto andando in giro, illustrando le funzioni del Corecom che è l'organo di consulenza e di garanzia della regione toscana nella comunicazione, dando informazioni sulle varie funzioni sia per quanto riguarda in generale la vigilanza e la gestione, sovraintendere a quelle che sono le programmazioni televisive e radiofoniche in Toscana ma in generale anche mettere al corrente di tutte le funzioni. Penso per esempio a tutta l'attività importante che facciamo sul patentino digitale che è quella informazione e formazione che viene fatta ai ragazzi delle prime medie della Toscana in modo da renderli consapevoli di un uso sicuro di internet e dei social. Penso a tutto il tema anche che riguarda le gestioni delle controverse telefoniche tra i cittadini e le compagnie telefoniche, le tv a pagamento e internet in modo che in questo senso il Corecom svolge una funzione di conciliazione gratuita, un servizio gratuito in un tema molto sentito e che è vissuto quotidianamente dai cittadini. Ringrazio il Corecom per questo tour, ha detto la consigliera regionale Ilaria Bugetti. È spesso sconosciuto alla maggior parte dei cittadini quindi io ringrazio il Corecom per questo tour che sta facendo in tutte le province. È un'istituzione molto importante, è una garanzia per tutti i cittadini e conoscerne poi i meccanismi oltre ai progetti e quindi un'attività che ha subito anche un grande impulso negli ultimi anni è importante soprattutto per quanto riguarda le controverse per esempio in materia di telecomunicazioni ma anche progetti rivolti ai giovani, quindi tutto quel mondo che è la comunicazione che è sicuramente un mondo delicato che dovrebbe essere messo a disposizione di tutti i cittadini. Qualsiasi iniziativa come questa che ne promuovono l'informazione e anche l'accessibilità da parte delle persone è benvenuta perché sicuramente è un modo in più per far capire che questo organismo è a servizio delle persone e quindi la regione toscana ha pensato ad un qualcosa che potesse avvicinare i cittadini e sentirsi meno soli soprattutto in tema di comunicazioni. Il presidente della provincia di Prato, Simone Calamai, si è detto felice che il tour informativo sia partito proprio da Prato e ha sottolineato la grande positività delle funzioni e delle attività del Corecom. Un tour importante, noi siamo ovviamente felici del fatto che parta proprio da Prato e che veda la nostra provincia la prima coinvolta in questo progetto di conoscenza e di illustrazione delle numerose competenze e attività che il Corecom Toscana effetto e porta avanti per i cittadini e diciamo per tutti coloro che sono coinvolti nel mondo della comunicazione. È un organo questo importante e devo dire insomma assolve veramente delle funzioni strategiche anche riguardo alla vita e alla quotidianità delle persone. Penso ad esempio a due tra i numerosi compiti che assolve è innanzitutto quello delle controversie riguardanti ovviamente internet, le operatori telefonici o ancora i contratti con le pay tv che è secondo me un servizio fondamentale, completamente gratuito a servizio del cittadino che può aiutare diciamo le singole persone nelle difficoltà che hanno con i singoli operatori e di risolvere i propri problemi. Io anche i dati che sono stati illustrati vi ritengo davvero straordinari, l'83% di queste controversie trovano una soluzione positiva e quindi tutto questo insomma mi porta a cercare ovviamente di far conoscere sempre di più quello che è l'attività e la funzione del Corecom. Accanto a questo un tema che mi sta particolarmente a cuore quello di quanto sia importante trasmettere e far conoscere soprattutto ai più giovani i buoni comportamenti, le buone pratiche riguardanti il mondo digitale, soprattutto il mondo dei social e questa è un'attività che Corecom porta avanti con le scuole, con il patentino digitale che aiuta e penso che questo sia fondamentale avere corretti comportamenti, rispetto e quella deve essere la modalità giusta di rapportarsi con i mezzi tecnologici. Quindi sicuramente un tour importante, onorati di partire da qui, da Prato e felici insomma di avere a disposizione una struttura, un organo che attraverso la regione Toscana insomma a tutti i cittadini in modo gratuito può dare tante risposte. Nato nel 2017 torna il premio Innovazione Toscana Amerigo Vespucci promosso dal Consiglio regionale insieme a Confindustria Toscana e organizzato da Digital Innovation Hub Toscana. Il premio, diviso in quattro sezioni, oltre alle tradizionali startup innovative, ricerca, sviluppo, innovazione digitale e sostenibile e brevetti, prevede la nuova sezione Welfare e Parità di Genere e conferma il premio Speciale Giovani. Il miglior progetto di ogni sezione riceverà un premio da 15.000 euro, mentre 5.000 euro in ogni sezione andranno a un altro progetto giudicato particolarmente meritevole dalla Commissione. Di 5.000 euro anche il premio Speciale Giovani. Il presidente Antonio Mazzeo ha ricordato come la sua azienda sia nata proprio grazie a un premio come questo e ha raccontato di aver voluto fortemente il premio Innovazione Toscana nel suo impegno in Consiglio regionale. Siamo alla sesta edizione di un premio per me tra i più importanti che come Consiglio regionale ogni anno finanziamo. Con questo premio noi vogliamo mandare un messaggio alle ragazze, ai ragazzi che studiano, che si impegnano sul nostro territorio, che vogliamo accompagnarli nella fase più difficile, quella in cui si vuole intraprendere qualcosa di diverso, si vuole creare una nuova impresa, si vuole costruire innovazione, questo è il messaggio più forte. Tante aziende in questi anni abbiamo premiato, sono già 45. Quest'anno è un'edizione ancora più bella, più importante. si è deciso di istituire un premio speciale per il welfare e la parità di genere, ringrazio il comitato promotore, ringrazio il vero motore Silvia Ramondetta perché in questa idea ci sta anche un po' la nostra idea di Toscana. Abbiamo lanciato Casa Toscana San Francisco, 20 start-up parteciperanno con noi dal 4 all'8 dicembre per incontrare investitori che operano sul territorio, insomma investire su chi fa ricerca e vuole trasformare quella ricerca in valore per il territorio e sostenere l'imprenditoria femminile sta al centro della nostra azione politica e questo premio va esattamente in questa direzione. Silvia Ramondetta, presidente del premio Innovazione Toscana, ha ricordato come con il 2023 il premio giunga alla sua sesta edizione. Il premio Innovazione Toscana quest'anno giunge alla sua sesta edizione e lo fa forte dei successi che ha riscosso negli anni precedenti. Dal 2017 abbiamo raccolto e portato alla luce 270 progetti, abbiamo premiato 45 tra imprese e start-up innovative abbiamo coinvolto 22 giudici di elevato livello in commissioni giudicatrici che appunto hanno operato al nostro fianco. È un premio che quest'anno peraltro proietta la Toscana verso una direzione 5.0, quindi verso una direzione di futuro sostenibile dove l'innovazione è certamente principalmente basata sulla digitalizzazione e l'applicazione delle nuove tecnologie digitali ma si apre chiaramente al concetto della sostenibilità ambientale e soprattutto della sostenibilità sociale con l'inserimento di una nuova sezione di concorso che è dedicata alla parità di General Welfare. Al premio si partecipa molto semplicemente, a partecipare quest'anno potranno essere peraltro solo le imprese e non anche altri soggetti perché Consiglio regionale e Confindustria Toscana hanno voluto puntare l'attenzione sul sostegno agli imprenditori. Si partecipa andando sul sito Premio Innovazione Toscana, scaricando il bando e la modulistica e partecipando al concorso che apre le proprie porte dal 16 ottobre alle ore 9 fino al 10 novembre prossimo. Si aspetta un mesetto, un mesetto e mezzo per la valutazione da parte appunto di una commissione giudicatrice formata da scienziati, accademici, universitari e industriali e a dicembre, entro il mese di dicembre ci saranno gli esiti e la valutazione, quindi l'augurio è che anche quest'anno si aggiungano molte imprese soprattutto imprese giovanili e anche femminili ma anche imprese strutturate di tutti i settori a partecipare a questa bella occasione che rappresenta la Toscana che può raggiungere un futuro sostenibile. Quest'anno inoltre il premio si arricchisce di una nuova sezione speciale dedicata a welfare e parità di genere ha spiegato Francesca Posarelli, presidente della piccola industria di Confindustria Toscana. Sono molto orgogliosa oggi di essere qua perché è ancora una volta una dimostrazione del saper lavorare bene insieme tra l'industria e il settore pubblico, quindi questo premio rappresenta un'attività che portiamo avanti da anni c'è una novità quest'anno sulla parte della sostenibilità sociale e quindi della parità di genere quindi un'attività o comunque una filosofia nuova che deve essere trasmessa anche alle piccole e medie imprese che già qualcuna in maniera molto avveduta ha già iniziato ma è comunque una cultura che dobbiamo in qualche modo trasferire a tutte le piccole e medie imprese, quindi che la donna abbia pari le stesse opportunità dell'uomo nonostante il merito sia sempre l'elemento fondamentale ma che abbia comunque le stesse possibilità di poter lavorare e sentirsi realizzata nel mondo del lavoro. Appuntamento con la prima parte della stagione 2023-2024 del Teatro delle Arti di La Strassigna per vivere il teatro come uno spazio civile, un luogo dove si incontrano e confrontano generazioni, linguaggi, culture per una vita collettiva migliore. Il cartellone è stato presentato in una conferenza stampa al Media Center Sassoli a Palazzo del Pegaso. Il Teatro delle Arti di La Strassigna è uno spazio civile di socialità, di cultura e investire sul teatro significa investire in libertà, lo ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. È uno spazio civile, uno spazio di relazione, uno spazio di socialità, investire sul teatro vuol dire investire in libertà, in un tempo in cui le risorse sono sempre meno. È bello sapere che amministrazioni comunali come quella di La Strassigna permettano che tutto questo sia possibile. È un festival lungo, un festival di qualità, pieno di produzioni molto interessanti e che ha la capacità di saper coinvolgere un territorio, insomma un lavoro collettivo che si pone l'obiettivo di saper arrivare al cuore delle persone. Il Teatro come Comunità è il motto che anima questa stagione teatrale, ha detto il consigliere regionale Fausto Merlotti. Il Teatro come Comunità è il motto che anima la stagione del Teatro delle Arti che parte domani sera, venerdì 13 ottobre e che è un teatro la cui offerta culturale, appunto il Teatro delle Arti, varia dalla musica allo spettacolo teatrale, comico, impegnato, piuttosto che a un'offerta culturale per i bambini, al cinema. Quindi è una particolarità che questo teatro ha che riesce ad offrire un'offerta che può incontrare i diversi gusti, quindi il Teatro come Comunità e quindi anche i numeri danno ragione a questa scelta del direttore artistico Gianfranco Pedullà, del suo staff dell'amministrazione comunale con la sindaca Angela Bagni e anche quindi il contributo importante che la regione toscana dedica, mette a disposizione di questa offerta. E tra l'altro il direttore artistico ricorda sempre come punto di pregio l'impegno della regione toscana ma anche la realizzazione sua e della sua compagnia all'isola della Gorgona con il teatro in carcere, con il teatro composto, la cui compagnia fondamentalmente è composta da attori detenuti e che è una grande particolarità di un qualcosa che ancora una volta rimarca come la toscana si atterra dei diritti fin da quando appunto il Gran Duca Pietro Leopoldo abolì con editto la pena di morte ancora prima della rivoluzione francese, ancora prima della indipendenza delle colonie americane e della madrepatria inglese. Un teatro che è cresciuto nelle presenze e nella progettualità, ha detto Angela Bagni, sindaca di La Strassigna. È un teatro che negli anni è cresciuto come numeri ma anche come progettualità. L'abbiamo visto durante il Covid, delle grandi risposte che ha dato, risposte anche complicate, ma il teatro ha dato una bella prova, importante e ora lo sta dimostrando con le stagioni, con i programmi grazie anche al contributo della regione. Mi fa piacere essere qui in Consiglio regionale accolta dal Presidente Matteo ma anche con il supporto del Presidente Gianni. Abbiamo fatto nel teatro di La Strassigna un convegno sulle residenze e voglio venire a questo. Sicuramente il programma, meglio di me, lo presenterà il direttore Gianfranco Pedullà che è un programma variegato, che affronta varie tematiche e vari settori, dalla prosa al classici, al dramma, la danza, ma più che altro tiene conto delle esigenze anche attuali, le giovani generazioni, il disagio e questo per noi è importante, come diceva prima Fausto Mernotti, il nostro consigliere di zona, Toscana Terra di Diritti e quindi le tante iniziative che facciamo come comune all'interno del teatro, dalla festa della Toscana, ad altre ricorrenze importanti e questo per noi è significativo. La grande collaborazione con la scuola e quindi investire anche sul futuro e questo insomma a noi dà tanta soddisfazione ma più che altro è importante perché il teatro è cultura, è la casa di tutti e quindi come sindaca del mio comune, del comune dove ha sede il teatro delle altre, sono contenta di essere qui oggi e della bella stagione che andremo a presentare. Un programma vario e multidisciplinare lo ha definito invece il direttore artistico. Beh questa è una stagione, la tredicesima, la nostra permanenza alla Stassigna, al Teatro delle Arti, che è un teatro che si è qualificato per un programma vario, multidisciplinare, dedicato alle arti, quindi musica, teatro, danza contemporanea e anche cinema, finanziato dalla regione toscana e dal comune della Stassigna, dove quello che governa è la qualità, la libertà di espressione, il senso di civiltà che un teatro oggi deve dare, quindi l'accoglienza a tutte le generazioni, abbiamo pubblici molto alti numericamente e questa caratteristica ci facilita un progetto di residenza, un presidio culturale, con spettacoli per le scuole, con produzioni nostre della Compagnia Teatro Popolare d'Arte che gira in tutta Italia e tantissime proposte che andiamo a presentare da domani sera con Maria Cassi, che fa uno studio su Luciano Bianciardi, un studio comico a maniera sua sul grande autore Grossetano, a Silvia Frasson che fa un omaggio a una partigiana medaglia d'oro della Resistenza, si chiama Poveri Noi, un testo meraviglioso, ho appena preso il premio Matteotti, posso segnalare un omaggio a Domenico Modugno da parte del grande artista non vedente pugliese, io provo a volare, l'artista si chiama Gianfranco Casolari e così via, saliamo fino ad un omaggio a Napoli e Buenos Aires attraverso il viaggio del tango che si crea a Buenos Aires, ma nasce anche dalla parte delle culture dei nostri emigranti, è curato da Francesco Giorgi che è il nostro responsabile musicale, poi ci terrei molto a citare in ultimo una cosa che faremo in aprile, che ospitiamo il nostro progetto nell'isola di Gorgona, ormai noto in tutta Italia, dove grazie sempre alla regione costruiamo degli spettacoli teatrali con gli attori detenuti, quest'anno abbiamo fatto una tempesta da Shakespeare che è stata rilanciata dappertutto, nelle notizie, nelle passioni del pubblico, tante repliche, e la faremo per la prima volta al Teatro delle Arti in aprile come chiusura della stagione, quindi una compagnia di attori detenuti da Gorgona, dove il Teatro Carcere va ad abitare uno spazio civile che è il titolo della nostra stagione. Grazie a tutti!